Come ogni anno proponiamo i prodotti tipicamente pasquali per sostenere l'attività di assistenza domiciliare oncologica e gratuita di Fondazione Ant. È un'attività che facciamo da oltre 30 anni qua nel territorio e che abbiamo continuato a fare anche durante l'anno di pandemia. Nella provincia di Pesaro e Urbino sono state ben 415 le persone che hanno potuto beneficiare totalmente in modo gratuito dell'assistenza domiciliare di Ant. Questo come è possibile? È possibile le proprie iniziative come la Pasqua Solidale, per cui il contributo di ognuno di noi e dei nostri concittadini è fondamentale per continuare a sostenere questi servizi. Farlo è molto semplice, basta scegliere per esempio in questo periodo un uovo Ant oppure una colomba. Noi appunto proponiamo uova di cioccolato extra fondente o al latte da 500 grammi senza glutine a fronte di una donazione minima di 15 euro, ma anche la colomba classica appunto, quindi con canditi, da 750 grammi a fronte di una donazione di 15 euro. Ma quest'anno abbiamo anche altre possibilità. Una di queste è una cesta Maletti con diversi prodotti all'interno, quindi pensata come regalo appunto dedicato e un pochino più importante, a fronte di una donazione da 35 euro. E abbiamo anche l'iniziativa dell'uovo sospeso, cioè si può scegliere di raddoppiare la solidarietà e questo lo si fa grazie alla scelta appunto di regalare l'uovo a una delle realtà del territorio, ai beneficiari di Aias, Anfas o Caritas. Come è possibile fare il proprio ordine per la Pasqua solidale? È molto semplice. Noi siamo aperti nelle nostre due sedi a Pesaro in via Ortigara 8 e in corso 11 settembre 217. Ma siamo anche online con la nostra pagina Facebook Ant nelle Marche e il nostro sito www.ant.it slash Marche. Abbiamo anche un e-commerce dove poter acquistare direttamente i prodotti che è ant.it slash store. Quest'anno consegniamo anche a casa o dove insomma ci venga richiesto a fronte di una donazione minima di 30 euro. È possibile anche contattare Daniela al 348 2626 147 o Iara al 347 522 9625.